C'è uno spirito del luogo che certamente costituisce la spiegazione di queste iniziative, io lo dico perché viviamo tempi nei quali da allora i luoghi sono richiamati soltanto delle patologie che manifestano i deliti delle funzioni pubbliche o l'asigione di qualche impresa, i luoghi sembrano essere quasi considerati causa dei nostri problemi, mentre invece questo paese è fatto dai luoghi, è dallo spirito dei luoghi, noi credo abbiamo detto bene di non di desertificare questo spirito dei luoghi nel nome di alcune patologie che da loro si manifestano, ma di iniettare responsabilità quanto più, e questo riguarda anche perché questa straordinaria iniziativa che ormai si consolida, che si presenta ogni anno più rancata e più capace di indurre intorno a sé, anche per quegli aspetti educativi, formativi di cui dicevamo prima, questa iniziativa, il permetto di segnalare, si realizza anche con quella parsimonia che caratterizza quello spirito di quel luogo.